Il prezzo basso ti ammazza l'azienda e purtroppo non te ne rendi conto. Oggi parliamo di un argomento cruciale per la crescita della tua impresa, il falso mito del prezzo basso. C'è questa convinzione errata e tremendamente pericolosa che se fai lo sconto, allora arriveranno più clienti, ma questo, oltre a non essere vero, diventa un clamoroso autogol che ti distrugge margini e ti manda in perdita. Voglio dimostrarti, dati alla mano, che il gioco del prezzo basso è uno sport totalmente fuori dalle tue opzioni e cercherò di spiegartelo facendo un esempio diverso dal solito, ma che sono sicuro ti sarà molto chiaro. Vedremo qual è l'unica strada che puoi percorrere con la tua impresa se vuoi crescere e aumentare il fatturato. E infine capiremo come alcune aziende sono riuscite a raddoppiare il prezzo e aumentare le vendite in appena 5 anni. Ma perché ti parlo di queste cose? Perché io sono Enrico Cecchini, il sarto del web. Il mio lavoro è aumentare il fatturato e velocizzare la crescita delle imprese grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. E questo è il canale di sarto del web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, ti do il benvenuto in questa nuova puntata del sarto. Oggi parliamo di come e perché il prezzo basso si rivela essere una tremenda minaccia per la tua impresa e vedremo poi come fare a raggiungere il risultato opposto ovvero crescere con la tua azienda grazie a un aumento dei margini e delle vendite cosa meravigliosa a cui dovrebbero puntare tutti gli imprenditori e le imprenditrici. Ma tant'è che se una cosa non sai che è possibile non cerchi neanche di realizzarla. Questa è la grande e triste verità della realtà. Per chi non lo sapesse io gestisco un'agenzia di comunicazione online. Noi sarto del web strutturiamo delle strategie per aumentare il fatturato e far crescere le aziende. Realizziamo i materiali necessari, approntiamo quelle che sono le campagne di comunicazione online e poi le gestiamo mensilmente fino a raggiungere gli obiettivi. Su questo canale io semplicemente parlo del mio lavoro, di quali sono le opportunità, le opzioni che internet, il mondo online, mette a tua disposizione, tua e della tua impresa. Quindi se ti piace l'argomento di cui stiamo parlando, metti mi piace, like, cuoricino, reazioni, commenti, iscriviti al canale, tutte quelle cose che piacciono tantissimo all'algoritmo e procediamo con l'argomento di oggi. Perché sto girando questa puntata? Perché è un argomento che dobbiamo sempre affrontare nelle consulenze dei tutor. I miei ragazzi che parlano con voi imprenditori per darvi quella che è la consulenza su misura per capire quali sono le opzioni che hai a disposizione, quasi sempre, più di 9 volte su 10, devono rispiegare questo concetto. Quindi in realtà ne parliamo in questa puntata e vediamo un po' di tagliare la testa al Tor. Proprio per questo, qualche mese fa, il modellista Umberto Masello ha girato un'altra puntata, un contenuto, chiamato i prezzi bassi allontanano i clienti. È stato un macello. Fra tutte le piattaforme su cui abbiamo pubblicato abbiamo abbondantemente superato il milione di visualizzazioni, abbiamo reazioni, like, dislike, soprattutto tanti, tanti commenti. È un argomento caldo, ma su cui soprattutto mi rendo conto c'è tanta, tanta ignoranza. Quindi ho fatto una cosa, intanto per iniziare la puntata ho preso 6 di questi commenti, li guardiamo insieme e li commentiamo un attimino, perché rivelano quella che è un'idea molto diffusa e inserita nella nostra testa. Anch'io ce l'avevo prima di capire che le cose funzionano differentemente, perché se cresciamo in una cultura che dice certe cose, allora ne saremo convinti a prescindere, ok, che sia giusta o che sia sbagliata. Vediamo poi il primo di questi commenti, ci scrive Massimo sotto al video dicendo si spende per le possibilità che si ha. La legge della domanda e, con l'accento dell'offerta, questo non sa nemmeno che cosa sia. Ok, quindi secondo Massimo se puoi spendere spendi, se non puoi spendere non spendi. E qua tutti ridono, perché allora comprare la casa, comprare la macchina, la chirurgia estetica, non so se lo sai che più di 7 tette finte su 10 sono fatte con finanziamenti. Ok, l'iPhone tutto col finanziamento. Cioè tu Massimo per esempio puoi essere tranquillamente convinto di questa cosa, ma la realtà è diversa. La regola è che le persone fanno di tutto per comprare quello che percepiscono come desiderabile. Arrivano a privarsi di tutto il resto. Quando ti dicono no a te perché non hanno i soldi per comprare quello che vorresti vendergli, probabilmente sono appena comprati qualcos'altro che ha zerato il loro budget, qualcosa che loro pensavano valesse di più di quello che gli stai offrendo tu, ma è una questione di percezione, ok? E quindi arrivano anche a fare finanziamenti. Ti ripeto, il mercato delle case starebbe in piedi se non ci fossero i mutui. Allora non è vero che la gente compra per le possibilità che ha, fa di tutto per comprare quello che vuol comprare. Vediamo il secondo commento di Alberto, Alberto che scrive In base alle mie esperienze nella gestione delle aziende si può avere qualità e prezzi concorrenziali. Basta guadagnare un pochino meno sul prezzo singolo, ma vendere il triplo rispetto agli altri. Massimo, sotto una sponsorizzata si vantava di aver gestito più aziende. Evidentemente questa persona però non fa impresa da tanti tanti anni. Perché quello che sta dicendo, se tu hai un'azienda oggi sai perfettamente che non funziona più così abbassare il prezzo, non vendi più il triplo rispetto a prima. Funzionava appunto negli anni 80, all'inizio degli anni 90, ok? Oggi non succede più e soprattutto questo consiglio che ci dà Alberto nasconde un grosso pericolo, un rischio tremendo di cui parleremo più tardi. Uno dei motivi per cui abbassare i prezzi, tenerli bassi, ti schianta l'azienda. Non è una questione psicologica, è una questione matematica. Vediamo un altro commento di Danny che dice Io non compro da chi ha prezzi troppo alti in base a quello che offrono che può essere un punto di vista, ok, ha senso, no? Allora gli chiediamo noi Sarti E come decidi se il prezzo è troppo alto? Ha sensazione? E Danny risponde. Tu come lo decidi? Si confronta con altre cose, si guardano i materiali e la qualità. Ad esempio le punte del ferro, della Bosch, costano troppo per quello che rendono. Tu come valuti se una cosa costa troppo? Ascolti il venditore? Per pigliarmi per i fondelli, no? E Danny ovviamente, probabilmente, è una persona che sa di cosa sta parlando. Cioè lui lavora probabilmente nel mondo delle punte dei trapani o comunque in quel settore perché capisce la differenza fra una punta di trapano X e una punta di trapano Y, ok? Ma se tu vai a vedere come sta la Bosch che a quanto pare vende roba a un prezzo troppo alto ragazzi, la Bosch fattura 88.2 miliardi all'anno e sta da Dio, sta benissimo! Ok, quindi come ho risposto a Danny è evidente che il cliente finale, la persona reale valuta l'acquisto, valuta quello che deve comprare in base a parametri che non sono quelli che ha evidenziato Danny, ok? Cioè non è che lui pensa questa cosa e allora questo funziona. Quando sei esperto o esperta del tuo settore capisci cose, ok, in merito a quello che vendi che la gente normale non capisce e questo può essere un vantaggio ma può essere anche una malattia, ok? Perché ti perdi, perdi di vista la realtà perdi di vista come funzionano effettivamente le cose puoi denigrare quanto vuoi la Bosch ma la Bosch cazzo fattura 88 miliardi ci sarà un perché che non riesci a capire quindi qui manca, c'è un mancamento di informazioni che non ti fa capire perché loro hanno successo e tu magari no che vendi la stessa identica cosa. Vediamo un altro commento, questo è Doriano Doriano che scrive in risposta ovviamente a Umberto che dice i prezzi bassi li ammazzano all'azienda infatti Amazon, voleva dire Amazon, vabbè Doriano tranquillo sta per chiudere che ha i prezzi tra i più bassi e si fa una grassa risata a Doriano, grande Doriano purtroppo Doriano, tra l'altro i dati sono pubblici non devi neanche pagare per avere i dati di Amazon perché è quotata in borsa, è tutto quanto online tutto quanto trasparentissimo Amazon perde 10 miliardi all'anno e l'e-commerce di Amazon è in perdita per 10 miliardi all'anno quindi quello che sta dicendo Doriano è non capisco un cazzo di come funzionano le aziende che non è un pericolo, non è neanche un crimine quindi a posto, non c'è come ce la fa Amazon ad andare avanti nonostante perde 10 miliardi grazie a sistemi che non sono a tua disposizione cose che non può fare un'azienda che fattura solo, tra virgolette solo qualche milione all'anno fattura 10, 20, 100 miliardi all'anno tu non puoi fare il gioco di Amazon perché Amazon sta sui miliardi ok? perfetto è molto importante mettere puntini sulle e su questi argomenti perché capisco che sia comune come pensiero ma è anche sbagliato e i dati te lo confermano andiamo veloci al quinto commento Francesco che ci scrive il prezzo di un oggetto o qualunque cosa deve andare a pari passo con la qualità e questo probabilmente è amico di Danny ok? quello di prima convinto che la qualità sia l'elemento che determina la vendita ma se fosse vera questa cosa allora l'Italia dovrebbe essere una potenza mondiale perché la qualità del prodotto o servizio italiano ce la invidiano in tutto il mondo e invece ad esempio qual è l'azienda che fa pizza più ricca del mondo? Pizza Hut americani hai mai mangiato la pizza Hut? fa cagare ok? qualunque pizzaiolo in giro per strada in Italia la fa molto meglio però Pizza Hut fa i miliardi gli italiani normalmente non ci arrivano a quei soldi facendo la pizza di nuovo qual è il caffè più ricco del mondo? Starbucks hai mai bevuto uno Starbucks? non vai a bere da Starbucks perché è buono il caffè non è un caffè buono però loro fanno i miliardi con un prodotto che dovrebbe essere nostro e che noi in teoria facciamo molto meglio ha una qualità molto più alta ok? potremmo andare avanti per ore con questo discorso rimaniamo sempre lì non è vero la gente la qualità non la capisce a meno che tu non faccia certe cose ma ci arriviamo su questo e vediamo l'ultimo commento questo è Marco il più delicato della combriccola se la vostra idea è quella di vendere un oggetto che vale 10 euro a 100 euro e in questo modo di migliorare la tua attività vuole solo dire che sei un ladro come molti altri personalmente fate tutti schifo vendete merda a poveri babbei che vi credono quindi Marco dice la sua io neanche posso arrabbiarmi perché Marco poveretto cosa fa? cosa ha fatto? ha semplicemente guardato tre secondi di puntata del modellista Umberto Masiello quindi non è che è andato molto oltre non ha capito neanche quello che ha visto probabilmente ma è ovvio che pensi questa cosa e scriva questa cosa perché è il suo punto di vista viziato da una serie di idee estremamente sbagliate cioè la realtà che noi percepiamo viene filtrata dei nostri preconcetti nella testa quindi se tu filtri le cose secondo argomenti sbagliati arriverai sempre a conclusioni sbagliate e questo è un rischio enorme cioè se sei un pensionato non è un grande rischio tanto alla pensione ti arriva lo stesso se sei un dipendente uguale puoi essere convinto convinta di cose sbagliate tutta la vita e continuare comunque a fare il tuo lavoro finché l'azienda per cui lavori per cui stai lavorando non fallisce lo fai fino alla pensione poi magari ti lamenti che la pensione è bassa ma bla 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 ma se sei un imprenditore il tuo lavoro è prendere decisioni e se hai idee sbagliate in testa prendi decisioni sbagliate e la tua azienda ne soffre ne soffrono i tuoi dipendenti ne soffre il tuo business ne soffre la tua cassa il tuo utile e nel migliore dei casi fallisci capisci? ok questo è il rischio di un'imprenditura che lavora progetta il suo lavoro secondo preconcetti errati ok ti faccio una piccola anticipazione ne ho trovato questo report molto molto interessante Chanel, Louis Vuitton, Prada hanno alzato il prezzo del loro prodotto di punta di più del 90% dal 2019 ok ci sono proprio i costi del prodotto nel 2019 e oggi nel 2024 questa è la fonte HSBC Analysis lo vediamo più tardi questa è solo un'anticipazione cerchiamo di capire come ci riescono e come è possibile replicare un simile risultato ma prima dobbiamo capire perché il prezzo basso ti spacca l'azienda nello specifico vediamo i tre motivi principali per cui questa cosa succede in maniera matematica il primo punto che voglio vedere assieme a te è il fastidiosissimo paradosso del prezzo basso e fatturato alto ok per capire questa cosa ti faccio una domanda quali sono le aziende che fatturano di più al mondo sono liste pubbliche che tutti possono trovare tranquillamente guardando gli indici di borsa la prima che fattura di più al mondo è walmart USA americana poi la seconda è amazon.com l'e-commerce di cui abbiamo appena parlato qui sempre americana la terza è state grid un'azienda cinese la quarta è china national petroleum di nuovo sta nel nome neanche dirlo cinese quinta sinopec sto per metterci una c sinopec anche questa è cinese poi c'è la saudi aramco questa invece dell'arabia saudita le posizioni 3 4 5 e 6 riguardano l'energia quindi luce elettrica gas petrolio ok un ambiente che io spesso nelle mie puntate dico state lontani da quel tipo di merce imprenditore imprenditrice tu che fai un lavoro in un'azienda che sta sotto una certa soglia di fatturato stai lontano lontana da quel tipo perché è una commodity un prodotto che può essere venduto in grandi quantità da chiunque quindi a margini molto bassi e rischi di farti molto male e il problema è che le aziende che vendono di più al mondo che fanno più fatturato sono proprio quelle che fanno i margini più bassi ok per esempio per prendere la prima nella classifica walmart non so se la conosci e questa catena di distribuzione al dettaglio enorme distribuita in tutto il mondo il suo motto è save money live better risparmi a denaro vivi meglio ok fattura la bellezza di 611.3 miliardi di dollari questo è il dato del 2023 l'anno concluso da poco ok quindi il grande paradosso è proprio questo i fatturati miliardari sono roba da aziende che vendono tanto e a margini risicati e il paradosso è che se lo fai tu ti ammazzi ti spacchi in due ti distruggi ti atomizzi perché ti spaccano loro fondamentalmente perché se sei piccolo piccolo e fai prezzi bassi basta che arrivi qualcuno più grosso di te sul tuo mercato e ti spezza le ossa e per capire proprio bene bene questo motivo cerco di farti un esempio diverso dal solito ok parliamo di un settore in cui la maggior parte dei player ok delle aziende che ci lavorano lo fanno a margini bassi l'agricoltura i contadini il mercato agricolo nel suo complessivo molto bene giusto per mettere per capire un po' la realtà in cui si muove muovono queste persone ti faccio un'altra domanda chi lavora nell'agricoltura secondo te è povero se lo pensi allora non sai come funziona cioè una normalissima mietitrebbia è buona che ti costa anche 200.000 euro ok pensa ai macchinari a volte enorme a volte stracomplicati con tantissima tecnologia i silos gli ambienti i cappannoni gli investimenti necessari per comprare i semi prima o per gli animali o per tutto quello che deve essere ci girano in questo settore un sacco di soldi e devi avere un sacco di soldi per poter lavorare in questo settore è molto solido avere spalle belle larghe ok perfetto quindi se hai l'idea romantica del piccolo produttore agricolo che zappa la terra e pulisce la patata con le mani ok ti hanno bombardato di puttanate ok probabilmente serie tv film romanzi cose di questo tipo non esiste più da un sacco di anni quella figura lì al massimo è la persona che coltiva per se stessa per piacere ma ormai per hobby ma stanno sparendo anche quelle faccio un esempio io sono nato nella riviera romagnola e puoi immaginare quanta gente doveva mangiare durante l'estate cioè i paesi in riviera contano poche migliaia di anime durante l'inverno svariate decine se non centinaia di migliaia durante l'estate proprio c'è una moltiplicazione senza paragoni tra una stagione e l'altra quindi c'è il mercato agricolo va in boom c'è una richiesta enorme di merci perché sta gente deve ovviamente mangiare e vuole mangiare bene ok quindi volano fiumi e fiumi di soldi in quello che è il food ok giusto per farti un'idea di quindi qual era la conseguenza di questa situazione quando ero piccolo io negli anni 80 c'era sto tizio che ogni estate si comprava un hotel nuovo e lo faceva per riciclare il denaro sporco ok i soldi in nero che faceva vendendo la frutta le pere le susine cioè per dirti quanti soldi c'erano ok dietro a questo settore in questo oggi qual è la situazione che no gli agricoli non se la passano per niente bene non so se hai visto una serie di notizie molto particolari proteste degli agricoltori in tutta Europa non solo in Italia in Francia hanno fatto veramente un casino potevano vedere in giro cartellone ne ho trovato uno futuro senza agricoltura uguale morte con vari punti esclamativi messi un po' in giro oppure giusta retribuzione ai produttori del vero alimentare alimentare made in Italy cioè vogliono essere pagati il giusto per quello che fanno detto giusto fra virgolette perché ne io ne te sappiamo che cosa significhi e semplicemente questa è stata una protesta perché a quanto pare gli sta andando sempre peggio ok qual è il problema in soldoni di questo settore che grazie alla globalizzazione grazie all'apertura delle frontiere l'avvento di internet ma soprattutto il miglioramento dei trasporti sono arrivati in questo mercato i grandi player aziende ancora più grandi con terreni ancora più vasti di quelli dei grandi latifondisti italiani con capacità più schiaccianti e hanno scalzato via le aziende più piccole ok per intenderci in qualunque settore tu sia quando vendi a un prezzo basso e puoi investire facciamo finta 100.000 euro ok nella tua azienda in comunicazione online gestione dei clienti eccetera ma arriva una concorrente X che spende 10 milioni allora ti spezzerà le ossa perché può vendere la stessa cosa che fai tu ma a un prezzo ancora più basso allo stesso modo chi ha investito 10 milioni di euro ma nel suo settore arriva qualcuno che può investire un miliardo e purtroppo lo fa allora lo stesso effetto chi ha investito di meno viene ucciso questo perché chi ha più soldi ha una maggiore capacità finanziaria può lavorare su quella che è l'economia di scala se io ti compro una scarpa un seme un pannello fotovoltaico un vestito una casa oppure te ne compro 10 100 1000 10.000 allora posso prendere dal fornitore un prezzo più basso posso negoziare per diversi volumi di acquisto ok e sempre grazie a quella che è una maggiore capacità finanziaria queste persone possono assorbire le perdite e proteggersi dai danni dei margini bassi e questo è il primo punto il paradosso del prezzo basso e fatturato alto veniamo al punto numero 2 di questo grandissimo problema la capacità di erogazione è un aspetto letale che molto spesso gli imprenditori prendono sotto gamba ok il numero di clienti che puoi servire al giorno alla settimana al mese ti faccio un esempio numerico molto semplice immaginiamo che tu abbia un dipendente se hai dipendente sai perfettamente di dare dei soldi al dipendente e dei soldi allo stato in genere 50 e 50 metà alla persona metà allo stato che se fossi un dipendente mi incazzerei non poco ma andiamo avanti facciamo finta che tu abbia un dipendente a cui dai 1000 euro lui 1000 euro allo stato quindi ti costa nel complesso 2000 euro al mese sto facendo cifre semplici per capirci così su due piedi molto bene se quindi su ogni vendita hai un margine facciamo finta di no per fare cifra tonda di 100 euro ok quante vendite ti servono per coprire il costo del dipendente risposta 20 vendite quando quel dipendente ha fatto 20 vendite o sono state fatte nel complesso dell'azienda dalla vendita dopo comincia il margine per l'azienda perché il cliente il dipendente scusami sta pagato ok perfetto ma se il tuo margine invece che 100 euro è 10 centesimi allora ti servono 20.000 vendite per coprire lo stipendio di quel singolo dipendente capisci ho fatto due cifre totalmente differenti per farti capire la moltiplicazione necessaria qualunque iniziativa tu devi di considerare a pensare in questo modo qualunque cosa esista nella tua azienda o tu voglia fare nella tua impresa devi valutarla il numero di vendite che serve per essere tenuta in piedi ok quante transazioni servono perché questa cosa esista non il contrario non ok poi vediamo quando devi avere proprio un numero di vendite come obiettivo ok quindi tu quante vendite puoi reggere al giorno alla settimana al mese perché da lì capisci quanto margine si serve ti serve per stare in piedi o per aver il fatturato che desideri ok e quante vendite è un numero malleabile ma non strecciabile non possiamo allungarlo all'infinito perché una persona richiede tempo per essere servita tempo per essere gestita magari tempo per mettere a posto quella che può essere un'emergenza o un disservizio o non ci siamo capiti eccetera eccetera fare un sito richiede del tempo fare i capelli richiede del tempo piantare un pomodoro e portarlo al ristorante richiede tempo ok fare i denti a una persona sulla poltrona e poi parlarci dopo per chiarire guarda ti ho fatto un ponte devi tornare per questa cosa quest'altra abbiamo trovato una carie eccetera eccetera tutto ovunque settore e servizio c'è del tempo e tu questo tempo è limitato ok non puoi allungare all'infinito invece una grande azienda può tranquillamente perché ha 100.000 200.000 500.000 punti vendita in giro per il mondo vende caffè in ogni punto vende la pasta vende quello che è e può moltiplicare quasi all'infinito le sue vendite questa è la differenza tra piccola azienda tra virgolette perché magari fatturi 20 30 40 milioni di euro ma comunque hai quei limiti lì non sei una multinazionale ok vediamo quindi quando alzi troppo le vendite ti tappi e ti cappotti perché poi ti vai in eserimento nervoso e va là che si interrompe tutto quanto il terzo e ultimo punto matematico per cui il prezzo basso distrugge la tua azienda è il costo di struttura quanto ti costa rimanere aperto aperta ogni giorno ogni settimana ogni mese tu hai dei costi che purtroppo spesso non consideri può essere l'affitto ma magari hai le mura va bene possono essere i costi annuali che devi avere tu come persona per poter fare il lavoro che fai certificazioni bolli e situazioni quanto costa il commercialista il dipendente la dipendente quei fornitori la luce elettrica tutte le spese sommate diventa il costo di struttura ok che in genere è quello fisso e poi c'è il costo variabile cioè perfetto ho fatto un cliente 10 clienti 100 clienti 1000 clienti quanti altri costi ho per poter gestire queste vendite perché la gente come diciamo prima va seguita e non lo stiamo più guardando dal punto di vista del tempo ma lo stiamo guardando dal punto di vista economico di costo quanto ti costa gestire tutte queste persone e la tua impresa nel totale arrivano spessissimo imprenditori in consulenza che non sanno quanto costa al giorno all'ora al mese quello che sia la propria impresa è un problema molto diffuso quindi sei in buona compagnia ma non per questo non è pericolosa ok qui non c'è mal comune mezzo gaudio quindi qui c'è da piangere da mettersi immediatamente ai ripari ok perché ho ascoltato per una vita lamentere di imprenditori che lavorano 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 e nel frattempo si stanno mangiando i risparmi come cosa sto lavorando a fare perché devo avere meno soldi a fine anno se mi sono fatto un culo tanto amico mio amica mia e probabilmente non hai tenuto conto dei costi di struttura e abbassando il prezzo andando a erodere quello che è il margine stai vendendo in perdita e non te ne rendi conto l'altro giorno parlavo con una persona che piazza finestre scusami infissi e lui semplicemente raddoppia compra una finestra a uno e la vende a due e io ho detto amico mio non è questo il modo di fare il costo questo non è il tuo costo di struttura probabilmente stai andando in perdita anche per questo ma poi sarà un discorso che si svilupperà in altro modo quindi come abbiamo visto prima nei commenti che ti ho portato ma tanto anche parlando al bar o con le persone in generale c'è un'idea molto diffusa che abbassando i prezzi aumentano i clienti e quindi anche la ricchezza ed è un mito pericolosissimo perché sicuramente potrebbe anche succedere che aumentano le vendite ma non è chiederlo a un negozio di abbigliamento che ha fatto gli sconti quando ci sono i saldi e comunque non vede la sua cassa che esplode come prima stanno cambiando le cose sicuramente possono aumentare momentaneamente le vendite ma a lungo termine avendo ridotto quelli che sono i profitti hai messo a rischio la sostenibilità della tua azienda quindi alti margini non è solo una buona pratica è la necessità per una piccola medimpresa ok solo le grandi aziende possono prosperare facendo margini basse tu al massimo puoi sopravvivere perché loro hanno l'economia di scala hanno risorse finanziarie enormi hanno una presenza di mercato consolidata e capillare le cosiddette spalle larghe più basso il prezzo più larghe devono essere le tue spalle ok perché puoi compensare ai problemi del basso margine con un volume di vendita enorme che tu non puoi assolutamente raggiungere tu fai un altro sport tu e io anche io non posso fare mille clienti con il lavoro certosino e su misura che facciamo noi start del web secondo te potrei prendere 100 clienti al mese ci cappottiamo non potrei più fare un buon lavoro deve fare una cosa copia e incolla per tutti e allora andrei a snaturare totalmente il lavoro tempo un anno e ho chiuso i sarti ok perché il prodotto diventa pessimo arrivano recensioni negative a pioggia e io ho finito di lavorare ok torniamo all'esempio che ti ho fatto prima le aziende che hanno raddoppiato i loro prezzi ok hai visto questo report possiamo capire cosa hanno fatto e poi vediamo perché puoi farlo anche tu e come quindi report Chanel Louis Vuitton e Prada hanno raddoppiato il prezzo tra il 90 e il 111% dal 2019 quindi in 5 anni vediamo una serie di prezzi per esempio Hermes ha portato il Souffular da 370 euro a 495 euro più 34 Gucci la sua borsetta da 850 euro a 1490 euro più 75% Louis Vuitton da 800 a 1600 euro un 100% pieno Prada da 1750 a 3700 euro un più 111% quindi più del doppio Chanel da un misero 5800 euro a un bel 11100 euro tu pensi una borsetta che costa più di 10.000 euro e qua c'è un 91% di aumento del prezzo ringrazio sempre questi studi che fanno queste analisi interessantissime non ci avrei mai voglia di mettermi lì a confrontare i prezzi anno dopo anno che due palle però è una cosa reale è una cosa che sta funzionando è una cosa che va avanti queste aziende stanno aumentando il loro fatturato grazie a un margine sempre più alto e continuano a avere clienti tutti i discorsi che fanno perché se non c'è la qualità allora è una truffa quindi stai dicendo che Hermes sta truffando le persone e allora perché non li mettono in galera semplicemente non capisci come funziona la regola ed è quello di cui stiamo per parlare in questo momento perché stiamo per parlare di status desiderio e prezzo alto ti voglio raccontare una storia di ormai 300 anni fa ti parlo di James Cook che è stato un esploratore navigatore e cartografo britannico uno dei primi uomini a toccare l'Australia le Hawaii ha lasciato un patrimonio di cartografia che ha contribuito a sviluppare quello che è il mondo fino al ventesimo secolo cioè ha fatto veramente un grandissimo lavoro quindi siamo nel 1700 e questa persona dice devo circunnavigare il globo un qualcosa di terrificante difficilissimo cioè come cazzo fai devi navigare il pacifico abbiamo visto le onde del pacifico quando un attimo un attimo il mare si incazza cioè fanno spavento anche se sopra una petroliera figurati le bagnarole su cui queste persone navigavano nel 1700 ma lui c'era due coglioni tanto e va comunque a fare questa cosa ok ed era consapevole che uno dei problemi che avrebbe dovuto affrontare era l'insorgenza dello scorbuto cos'è lo scorbuto? una malattia molto difficile da curare ma facile da prevenire bastava assumere tanta vitamina C poi lascia stare che le conoscenze del tempo non erano ancora approfondite come quelle di oggi però si capiva che alcune cose andavano bene alcune cose si faceva tentativi si passava parola si cominciava a capire come funzionavano queste cose e quindi James Cook dice ok devo mantenere la mia ciurma viva e lavorante fino in fondo perché vai te a cambiare la persona quando sei in mezzo ai selvaggi non ce la fai trovati con una persona in meno la nave collassa ok cosa devo fare? devo fargli mangiare tanta vitamina C però era rischioso come faccio? mi carico la stiva di arance le arance hanno una scadenza ok non dureranno mai per tutto il viaggio quindi ha fatto un'altra cosa ha riempito la stiva di crauti ok non si è mai assaggiato i crauti sono molto particolari sono comunque un alimento ricco di vitamina C in grado di conservarsi a lungo problema James Cook sapeva perfettamente che i marinai sono refrattari alle innovazioni superstiziosi ignoranti tutta una serie di cose di questo tipo perfetto non avrebbero mai accettato di mangiare questo strano cibo puzzolente sconosciuto chiamato crauti ok hai voglia a te a dirgli sono ricchi di vitamine non lo mangiavano tu glielo davi loro lo buttavano mentre non guardavi lo buttavano oppure se lo mettevano in tasca sarebbe stato un disastro James Cook che era furbo come una cazzo di volpe fa una cosa brillante riserva i crauti solo a se stesso e agli ufficiali per le prime due settimane solo lui e gli ufficiali mangiano i crauti e lo fa passare per un cibo esclusivo che mantiene sani e dice solo per gli ufficiali questa cosa la mangiamo solo noi mi spiace per voi niente perfetto passate le prime due settimane che ovviamente la gente si passa voce perché siamo tutti quanti su una bagnarola comincia a dispensare i crauti come premio per i marinai ok da quel momento i crauti diventano un premio un qualcosa che viene concesso quando hai fatto bene il tuo lavoro automaticamente i marinai cominciano a percepire questo cibo come qualcosa di esclusivo meritato salutare eccetera eccetera tutto quello che poi viene in mente perché poi persone sono tante sono diverse ma comunque cominciano a desiderare questa cosa e questo è il modo in cui James Cook è riuscito a mantenere il suo equipaggio poi lascia stare che morivano perché venivano assaltati lo stesso James Cook a 51 anni circa è stato ucciso dai selvaggi durante uno dei suoi dei suoi viaggi vabbè però diciamo che non sono morti di scorbuto questo obiettivo raggiunto ok questa è una storia che precede di centinaia di anni il marketing i libri dei guru la tv gli influencer Instagram tutto quello che ci gira attorno ok generare domanda attraverso ruoli di status esclusività limitazione ok limitare un prodotto o imitare una persona che stimi di cui ti fidi eccetera eccetera ok è una storia lontana ma che è potentissima questo è il modello vincente dell'arte della persuasione è il modo in cui le grandi aziende riescono a vendere a margini sempre più alti addoppiando i prezzi ogni 5 anni ok per fare una cosa simile nella tua impresa cosa devi fare devi posizionarla in maniera corretta da quanto sto registrando ma trentina di minuti ma sai dai parliamo anche del posizionamento vai allora se hai capito che è importantissimo distinguerti nel mercato di oggi probabilmente ti sta anche nascendo un discorso nella testa ok ma cosa devo fare quanto mi costa quali sono i rischi eccetera eccetera ho abbastanza risorse per farlo ok per mettere giù una strategia di posizionamento che funzioni ok ti voglio dare una prospettiva leggermente diversa da quella dei vari guru il vero posizionamento differenziante che riesce a farti distinguere rispetto alla concorrenza non richiede milioni investiti ok in comunicazione online un quello che deve essere ma piuttosto delle idee chiare originali e ben comunicate ok un messaggio preciso fatto per il verso che metta in luce i bisogni e i desideri del cliente che vuoi attirare ok questa cosa vale molto di più di una costosissima campagna pubblicitaria è il punto di partenza se manca questo qualunque soldo investito in comunicazione online sarà sprecato se c'è questo allora i tuoi soldi possono avere un rendimento ancora oltre a questo personalizzare il servizio clienti rendere uniche ok le interazioni fra l'azienda è il cliente finale rendere quella che è una esperienza normale un'esperienza straordinaria sono cose che aumentano la fideltà che fanno vendere di più che incentivano il passaparola che se comunicati ti attirano tanti clienti nuovi che vogliono provare quello che stai facendo per questo che quando poi vedo i commenti come del nostro amico a cui facciamo schifo come si chiama Marco dice che vendete merda a poveri babbei ovvio perché se vendi semplicemente quello che vendi senza farci niente attorno senza mettersi in quello che la persona desidera davvero ok perché magari io posso desiderare la penna ma magari voglio che qualcuno me la porti qui magari voglio che qualcuno mi dia tutti i colori di cui ho bisogno magari voglio un'assistenza per quando mi manco si secca cioè ci sono altre cose che possono essere accessorie mi raccontava il modellista Umberto Masello di questa trattativa di una compravendita di casa c'è stato un contenzioso fra chi vendeva e chi comprava questo contenzioso è stato sistemato dal notaio chi vendeva casa si è voltato verso l'agente immobiliare e ha detto tu non hai fatto un cazzo io non ti do i soldi pattuiti ti do la metà perché tu non hai fatto niente cioè capisci se tu sei un agente immobiliare e non risolvi i problemi che vengono fuori dal tuo lavoro allora ha ragione la gente a mandarti via a calci in culo come minimo io quando facevo finanziamenti prestiti quando ero un venditore che faceva finanziamenti prestiti e prendevo commissioni sui finanziamenti io risolvevo tutti i problemi che si creavano attorno al discorso finanziamento da quando la persona portava i documenti a quando la persona riceveva i soldi sul conto corrente io risolvevo tutti i problemi e in quel modo nessuno mi ha mai negato i soldi che erano pattuiti per quello che doveva succedere e non è cambiato niente da questa cosa che era 20 anni fa ad oggi ci sono tante cose che tu non stai facendo ma che potresti fare e che fanno parte dei desideri del tuo cliente del modo in cui vorrebbe essere servito servita il modo in cui vorrebbe ricevere il tuo prodotto o servizio che va compreso dato messo in sistema e poi comunicato chiaramente alle persone perché niente esiste se non lo comunichi niente esiste se non lo fai capire alle persone rimarrà sempre nascosto nello sgabuzzino se è migliore la migliore nel fare qualcosa ma la gente non lo sa allora tu meriti i soldi che la gente crede che tu meriti è così e se alle persone non gli frega un cazzo che il professionista abbia 4 lauree e 50 attestati 4 lauree e 50 attestati non alzeranno il prezzo non alzeranno le vendite sarà una cosa sarà un modo del professionista per farsi delle gran seghe di fronte a quanto è bravo quanto è brava mi spiace sono scurrile ma questa è la situazione è la realtà che puoi vedere là fuori quando ti incazzi che la concorrenza vende di più che il cliente finale non capisce la qualità di quello che fai è perché la percezione delle persone di quello che vendi è una tua responsabilità è una tua responsabilità quanto le persone sono disposte a pagarti quanto le persone sono contente di pagarti e vengono da te piuttosto che da qualcun altro e quando capisci questa cosa allora ti attivi e le cose cominciano a cambiare in meglio chiaramente ti servono i materiali ti servono le strategie ti servono le strade giuste perché puoi prendere la strada giusta o puoi fare quella sbagliata è un errore in mondo aziendale puoi riportarti al punto di partenza cioè se io faccio 100.000 euro di utile all'anno e faccio un errore che mi costa 100.000 euro io ho fatto zero quell'anno di utile ah tanto vale che non lavoravo neanche che stavo a casa a dormire quindi capisco anche la paura di perché ho capito questa cosa che mi ha detto il sarto ma non so metterla giù se la metto giù magari sbaglio e perdo quelli che sono i miei meritati risparmi hai ragionissimo è per questo che puoi andare su isart.deweb.it slash tutor e toglierti qualsiasi dubbio parli con un esperto un esperto di comunicazione online che ti verrà verrà incontro in quella che sono le tue esigenze ascolterà il tuo caso specifico i tuoi desideri la tua situazione quello che hai fatto che non hai fatto che hanno fatto la tua concorrenza quanti clienti hai avuto quanti ne hai persi eccetera eccetera dove vuoi arrivare e insieme capirete qual è la strada migliore da percorrere per raggiungere i tuoi obiettivi io più di questo più che girare questi 40 minuti di puntata e darti questa cosa non so veramente cosa fare ma mi raccomando cerca di capire e dillo anche agli altri che quando la tua impresa non è una multinazionale il prezzo basso ti spacca l'azienda in due per motivi matematici e per motivi psicologici oggi abbiamo visto quelli matematici spero di averti spiegato nel migliore dei modi il mio quello che volevo trasmetterti se qualcosa non ti è stato chiaro scrivimi pure un messaggio privato un commento qua sotto vi leggiamo tutti con grande piacere io sono Enrico Cecchini e ho fondato i Sarti del Web un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato e accelerare la crescita dell'impresa grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura vuoi leggere qualcosa in più su di noi ci trovi sui Sarti del Web ma anche sul social chiusi più spesso e sui maggiori canali di podcast detto questo ti auguro buona giornata buon lavoro e buona comunicazione online ciao buona giornata grazie a tutti